Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vedremo il museo in Animal Crossing New Horizon. Come si apre il museo? Inizialmente non avrete nulla, né il museo né la tenda, perché Blatero, il gufo che si occupa del museo, non è ancora presente sull'isola. Dopo aver donato i primi insetti a Tom Nock alla tenda nella piazza centrale, verrà Blatero con la sua tenda e una volta che avrete consegnato a Blatero 14 insetti o pesci, aprirà il museo. Nel museo potete fare delle donazioni, sia pesci, insetti che fossili. I fossili sono questi, quindi con una pala, che potete ottenere da Blatero, scavate dove vi è la X, cioè la X, questo segnetto praticamente, per avere il fossile, che può essere sia un fossile esclusivo che, diciamo, già in vostro possesso. Quindi recatevi da Blatero nel museo per fare le donazioni o capire di che fossile si tratta, quindi per avere informazioni o donarlo. Io adesso schippo il dialogo. Esamina fossili e potete selezionare più fossili alla volta. Una volta che gli avete dato i fossili, lui vi dirà se si tratta di fossili rari e che non sono ancora presenti nel museo, oppure di fossili che avete già consegnato. Quindi potete poi tenerli, venderli, fare quello che volete. Adesso premete su Donazione e da qui potete poi donare i fossili. Come vedete, questo fossile non lo posso donare perché già l'ho donato, quindi poi lo vendo. Quindi seleziono l'unico fossile esclusivo, quindi non ancora presente nella mia collezione. Una volta che ho fatto questa donazione, posso decidere se, diciamo, ascoltare la storiella, quindi informazioni su ciò che ho donato, oppure no. Saltiamo il dialogo. Fatto questo, adesso ce ne andiamo in giro per il museo. In questo modo vi faccio vedere la mia collezione, che ovviamente non è numerosa, ma è in continuo aggiornamento. Impiegherete molto, ma molto tempo per completarla. Il museo è suddiviso in varie strutture, quindi, diciamo, avete la possibilità di farvi un giro e vedere gli insetti che avete catturato, tra cui le farfalle, i ragni, eccetera. Avete la possibilità di vedere i fossili e tutto il resto. È un museo molto, molto grosso, molto grande. Come vedete ci sono anche delle teche, a seconda, poi, del tipo di animale, di insetto che avete donato. Ora, qui non ho nulla, però, solitamente, qui si trovano, diciamo, gli insetti di un certo tipo, diciamo. Poi c'è la zona marina, la zona dove ci sono i reperti archeologi, e quindi, diciamo, è un museo davvero molto grande che potete riempire giocando. Quindi, man mano che trovate nuove specie, potete usare il retino per catturarle o la canna da pesca, mentre per quanto riguarda i fossili, ovviamente, la pala. Quindi, andate poi giornalmente ad esplorare l'isola in cerca di animali fossili e quant'altro. Questa è la zona più bella, secondo me, perché ci sono, diciamo, i pesci di vario tipo. Qui troverete gli squali che avete la possibilità di catturare in estate. Questa è la bellissima carpa giapponese, se non vado errato. Quindi, diciamo, i pesci da catturare, gli insetti da, diciamo, da catturare anch'essi con il retino, i fossili da trovare, sono davvero numerosi. Come vedete, il museo è titanico. Vi perdete al suo interno. Però, una volta che avete completato il tutto, girovagando per il museo, vi imbatterete in molte specie. Ed è veramente bello poterlo poi esplorare con un amico o con la dolce metano. Andare in giro per il proprio museo e dire, guardate cosa ho catturato. Questo l'ho recuperato su quest'isola, questo l'ho recuperato in quel giorno. Insomma, è una bella iniziativa. Come vedete, è enorme, ma veramente enorme. Soprattutto la zona acquatica. Adesso vi mostro la zona archeologica, dove ci sono appunto i reperti che trovate in giro. Questi sono animali vivi, ovviamente. Però c'è anche la zona dove ci sono i dinosauri e, diciamo, altre specie estinte con i fossili che avete recuperato. Le specie in questione sono suddivisi in fossili, quindi, diciamo, per ogni fossile è una specie differente. Quindi, per costruire poi un dinosauro, ad esempio, dovete recuperare tutti i fossili. Alcuni sono singolari, come potete vedere. Altri, invece, vanno recuperati tutti, quindi tutti i pezzi, per formare poi il fossile, come in questo caso. Alcuni sono incompleti, come potete vedere. Altri sono completi o in via di costruzione, come questo, ad esempio, che manca praticamente il pezzo centrale. Questo perché scavando troverete i vari fossili e, quindi, portandoli poi a Blatero, potete, diciamo, ultimare la vostra collezione. Se questo video vi è servito e vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.